Se fossi stato un po' più giovane ti avrei chiesto di fare insieme a me il gioco così ma ormai sono maturo Ormai sono un ragazzo con le scuse, il mal di schiena eccetera eccetera, meglio così, meglio così Grazie mille per essere venuto a trovarci Marco, come dicevo prima sei una persona con la quale mi sarebbe piaciuto parlare già da tempo Sono contento che sia arrivata l'occasione, adesso che ho il numero molto volentieri Inizierei con te a parlare di attivismo, tu sei un attivista, l'attivismo mi sembra che stia diventando anche molto popolare Il che lo rende anche forse più discusso, c'è l'attivismo, quello dei social che molto spesso non ci va bene perché lo troviamo un po' vuoto e un po' narcisista Però non va bene neanche l'attivismo di chi va in strada perché blocca il traffico, perché lanciano la vernice sui monumenti Anche quello non va bene, che cos'è l'attivismo oggi nel 2023? Allora, cosa non va bene? Secondo me il menefreghismo e la violenza Tutto quello che sta in mezzo può avere un po' di utilità Significa innanzitutto ascoltare se stessi C'è qualcosa che è importante per me E se c'è qualcosa veramente di importante per me Cerco di tradurlo in pratica, di dedicare anche un pochino del mio tempo per fare qualcosa Perché si realizzi davvero quello che dico essere così importante Può essere l'ambiente, possono essere i diritti civili, può essere tutto Però secondo me il primo passo è ascoltare se stessi, ascoltarsi dentro Che spazio ha anche il rischio personale che una persona mette all'interno delle battaglie in cui decide di sposare E nelle battaglie in cui crede? Noi diciamo disobbedienza civile Che cosa significa? Significa a volte anche assumersi dei rischi Ma in prima persona Perché se io tiro un mattone contro una vetrina o contro la polizia Non sto rischiando, in realtà mi sto nascondendo Sto facendo un danno Disobbedienza civile Se davvero si è convinti che qualcosa non valga Non debba essere mantenuta Una legge non sia più sensata La si viola ma non nascondendosi come fa un evasore fiscale Assumendosene la responsabilità Questo non significa avere ragione Io posso fare È una forma di onestà nei confronti anche di se stessi Noi abbiamo fatto azioni di disobbedienza civile Sul tema dell'eutanasia In passato anche l'aborto, le droghe Ci sono persone che possono fare azioni simili Non violente Con opinioni esattamente contrarie Non è che se faccio una disobbedienza civile Allora ho ragione per forza Ognuno poi si farà un'idea Se la causa che si porta avanti Valga la pena o no Per gli attivisti del clima È chiaro che se penso Che siano tutte storie E non ci sia questa emergenza climatica Che io invece ritengo ci sia Allora quelle azioni Saranno solo delle azioni sconsiderate Altrimenti Se il danno è tutto sommato limitato E chi fa si assume la responsabilità Di sostenere processi Multe eccetera Allora quella Credo che possa essere Un'azione utile Per fare andare avanti le cose Parlando di disobbedienza civile Tu sei arrivato a fare 17 giorni di digiuno Se non sbaglio Ricordaci in che occasione Che cosa succede al tuo corpo In quei momenti E anche alla tua testa È stato il primo caso Di persona che poi ottenne Legalmente L'aiuto a interrompere La propria vita senza soffrire Per Giorgio Welby 16 anni fa E avevo fatto Quello sciopero della fame Per chiedere alle istituzioni Di dargli almeno una risposta Era uno sciopero di dialogo Che cosa succede Con lo sciopero della fame In realtà paradossalmente Non hai fame Pranne nei primi Due giorni Poi il corpo si abitua Ed è forse la cosa più pericolosa Perché ti senti forte Ti senti invincibile Riesci a concentrarti molto di più Su quello che stai facendo E magari però non ti rendi conto Che qualcosa sta succedendo È potenzialmente anche di pericoloso Quindi bisogna essere molto prudenti Nel portare avanti azioni di questo tipo Tu hai accompagnato diverse persone Ormai negli anni Verso il fine della loro vita Sono sempre stato molto curioso Di capire dal punto di vista umano Che rapporto si crea tra voi due Quanto poi è difficile Perché immagino che anche da parte loro Sia una scelta di una profondità importante E immagino che anche il legame che si crei fra di voi Diventi molto profondo Quanto è difficile poi lasciarli andare In realtà la difficoltà vera Da quello che io ho constatato Sono per le persone che gli stanno accanto I parenti Il compagno La compagna Che fanno più fatica Ad accettare l'idea Che quella persona se ne voglia andare Ma nei casi che ho seguito Da Welby a DJ Fabo A altri Quello che mi ha impressionato È stata la determinazione E il mio ruolo è essere Al servizio di quella determinazione Ma anche la serenità A volte addirittura il buon umore Per Giorgio Welby La sera che eravamo andati A casa sua Con Marco Pannella Con gli altri Quell'ultima notte E disse Eh sono un po' nervoso È la prima volta che muoio Allora se tu Ci fai una battuta del genere Negli ultimi minuti della tua vita Vuol dire che non stai andando Perché sei disperato Ma stai andando perché ritieni Che la speranza sia Di una vita vera Piena che tu A questo punto Non puoi più vivere E lo stesso Ho constatato Negli altri casi Mai Non sono mai state persone Che avevano bisogno Di commiserazione Di compatimento Avevano bisogno di un aiuto Esattamente come una persona Che vuole un aiuto Per essere curata Per stare bene Aiuto A essere liberi Di decidere Fino alla fine Della propria vita Avevo letto Da qualche parte Una cosa simile Riguardante DJ Fabo Che durante il tragitto Verso la clinica Si premurava Che tu non facessi incidenti Mi raccomando Guidate piano L'altra cosa impressionante Con Fabo È stato che Ha chiamato Gli amici a sé Vi devo dire Un'ultima cosa Molto importante Pochi minuti prima Che morisse C'era la fidanzata Valeria La mamma Carmen Lui Era in quelle condizioni Perché aveva fatto Un incidente d'auto E disse Una cosa vi devo dire Allacciatevi la cintura Non potreste farmi Un favore più grande Allora una persona Che sta Per terminare la propria vita Che noi immaginiamo Sia concentrata Su se stessa Sul film Della propria esistenza E che ha invece La forza Interiore Per Preoccuparsi Di dare questo messaggio Di vita Ai suoi amici L'ho trovato Veramente forte Questo Questo tipo di aiuto Che tu dai A queste persone Ovviamente Ti mette anche Nei guai E qui si entra Nel tema Dell'autodenuncia Che è una cosa Che tu fai Come funziona Ti presenti in questura Ti autodenunci Firmi Vai Ti trattengono Come Cosa succede In quei casi Allora Quando è accaduto Le volte che è accaduto Appena tornato In Italia Sono andato In una stazione Dei carabinieri E ho raccontato Quello che ho fatto In realtà Dicendo Che per me Questo non doveva Essere considerato Come un reato Perché è vero Che c'è una legge Del 1930 Che condanna Fino a 12 anni Di carcere Per l'aiuto A morire Ma che ci sono Dei valori Dei principi Costituzionali Di libertà Di scelta Che Anche da un punto di vista Giuridico Sono più forti Di quella legge Del 1930 La Corte Costituzionale Mi ha dato ragione Quindi ha prevalso La Costituzione Ha prevalso la Costituzione E sono stato assolto Però ho Ricominciato Le azioni Di disobbedienza civile Stiamo aspettando Con altri Eventualmente Tre processi Per altre persone Perché La Corte Costituzionale Ha deciso Su persone Che erano Attaccate a una macchina Tenute in vita Da trattamenti Di sostegno vitale Come si dice Tecnicamente Solo che Per esempio Un malato terminale Di cancro Non è attaccato A una macchina Ma perché Non deve avere Lo stesso diritto Di interrompere Una sofferenza Insopportabile E irreversibile Quindi abbiamo Ricominciato Le azioni Di disobbedienza civile A questo punto Chiedendo Visto che il Parlamento Chiamato in causa Su questo Non sta facendo nulla Da molti anni Che sia la giustizia Magari di nuovo La Corte Costituzionale A stabilire Se vale di più Quella legge del 1930 O la libertà di scelta Di un malato terminale Anche perché Correggimi se sbaglio La cosa che io a volte Fatico a capire Quando sento Di casi del genere È perché L'interruzione Della cura Sia permessa Ma poi lo spazio In mezzo Tra l'interruzione Della cura E la morte naturale Deba essere C'è quella cosa Un po' Ipocrita Per cui Se si interrompe Un trattamento E poi giriamo tutti La testa All'altra parte Allora si può fare E la persona Può essere aiutata Ormai grazie Alle battaglie Che sono state fatte Beppino Inglaro Anche gli altri casi Se invece Si chiede un aiuto Attivo Attraverso Per esempio Una sostanza letale Che il malato Può Autosomministrarsi Allora questo diventa Moralmente Attaccabile Ci sono poi persone Che non hanno La possibilità Di autosomministrarsi La sostanza Quindi paradossalmente Per il fatto Che sono totalmente Paralizzate Allora noi dobbiamo Discriminare Perché nessuno È autorizzato Ad aiutare A somministrare Quella sostanza Io penso Che tutto questo Vada superato Ovviamente Senza imporre Nulla a nessuno Perché questa è la forza Dei diritti civili Quando si conquistano Che uno può Continuare a essere libero Di non abortire Di non divorziare Di non fare il testamento Biologico Di non usare Di non fare ricorso All'eutanasia Nessuno Sarà mai obbligato Ma almeno Chi ne ha necessità Lo possa fare La regolamentazione Del fine vita Così come L'antiproibizionismo Erano stati votati Attraverso un referendum Digitale Abbiamo raccolto Due milioni di firme E come è andata a finire? Per poter tenere Un referendum La corte costituzionale La corte costituzionale Ha detto che Non si poteva votare Perché Quei temi Avrebbero toccato Dei principi costituzionali Noi contestavamo E contestiamo Questa interpretazione Però di fatto Non si è potuto Votare La firma digitale La votazione digitale Può essere però Un buono strumento In futuro È molto diverso La votazione digitale Siccome il voto è anonimo Gli esperti informatici Dicono che è pericoloso Che può essere manipolata Ma non messa La firma invece È la mia firma E quindi Così come possiamo Pagare le tasse Possiamo Non si capisce perché Non ci si debba consentire Di attivare anche la democrazia Con gli strumenti digitali Io credo ci vorrebbe Una vera e propria App della democrazia Lo proponiamo con Humans Che consente al cittadino Non una volta ogni cinque anni Ma costantemente Se vuole E sui temi Sui quali è interessato Appassionato Poter interagire Con le istituzioni Ma anche tra cittadini Senza necessità Di aprire un gruppo Facebook Ma magari Avere uno strumento pubblico Per poter Attivare la democrazia Partecipare Alla gestione Della cosa pubblica Tra i vari esperimenti Che si fanno Per trovare anche Magari nuove forme Di fare politica Avevo letto Che in alcuni paesi All'estero Si formano delle assemblee Di cittadini Estratti a sorte Questa sembra Una cosa Un po' Un po' Matta In realtà Lo sta facendo Macron In Francia In Irlanda Sono arrivati così A legalizzare L'aborto E il matrimonio Egalitario In Francia Lo stanno facendo Sulla eutanasia L'hanno fatto Sui cambiamenti climatici Cosa vuol dire? Prendere 150 persone E obbligarle Per sei mesi A informarsi A discutere Tra di loro Queste persone Non possono essere Elette a nulla Quindi non è che Dicono le cose Per aspirare Poi a una carica Devono solo ragionare Obbligate A informarsi E a ragionare Credo che Una combinazione Di queste due cose L'utilizzo Delle nuove tecnologie E questi modi Innovativi Di fare partecipare Le persone Potrebbero Innovare molto La nostra democrazia E il rapporto Tra i cittadini E il potere pubblico Invece Nelle ultime elezioni Avevamo Raccolto le firme Per una lista Con la firma digitale L'hanno annullata Invalidata Ci hanno Reso impossibile Partecipare Ecco credo che In Italia Bisognerebbe fare Ancora molto Per arrivare A una condizione adeguata